Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna al momento si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In Filippili per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sulla statale 2 via Cassia ha chiuso fino al 7 gennaio il tratto in entrambe le direzioni tra i chilometri 144.800 e 152.500 Radicofani in provincia di Siena a causa di una frana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.